L'avvocato Massimiliano Di Cuia è candidato al Consiglio regionale pugliese con Forza Italia. Forza Italia ovviamente sostiene il candidato presidente Raffaele Fitto. Avvocato Di Cuia, perché appoggiare Fitto? Intanto per una ragione strettamente politica, Fitto è il leader di una coalizione nella quale io rivedo i miei valori, nella quale da sempre milito, e che è espressione dei valori liberali per quanto mi riguarda anche cattolici e quindi credo che sia per me il posto naturale nel quale cimentarmi. Dopodiché sostegno a Fitto perché rappresenta sicuramente l'alternativa a quella che è stato il governo di Michele Emiliano negli ultimi cinque anni, ma più in generale quello della sinistra negli ultimi quindici. Con Fitto abbiamo messo in campo una proposta programmatica che parla di infrastrutture, che parla di sanità, che parla di ambiente, che parla di aspetti del tutto trascurati negli ultimi quindici anni che credo che come coalizione di Centrodestra avremo il dovere di meglio curare e rilanciare.